Ecco una domanda per voi. Se le ruote sono così fantastiche come continuiamo a dire noi umani, perché in natura non ci sono animali che hanno le ruote al posto delle gambe? Perché i caprioli hanno gambe non ruote? Quanto sarebbero adorabili con le ruote? Beh, ecco, c'è un motivo pratico e riguarda il tipo di ambiente in cui si trovano. Noi abbiamo le ruote per le strade, ma non sarebbe comodo andare con le ruote dappertutto e ci sono posti che vogliamo esplorare nel Sistema Solare che iniziano a essere inaccessibili per noi con le ruote come abbiamo fatto finora. Quindi esattamente come si è accorto alla natura che forse le ruote non erano la soluzione migliore, ci stiamo iniziando ad accorgere anche noi che forse avere tutti i rover in giro soltanto su ruote diventa un po' limitante. E da questo punto di vista la robotica ci sta aiutando tantissimo perché abbiamo un sacco di nuove missioni in arrivo che sperimenteranno nuovi modi per muoversi su altri mondi e quello di cui vi parlo oggi è simile a quello di un capriolo. Dunque, si tratta di un progetto europeo di esplorazione robotica, battezzato LIP, che vuol dire in inglese balzo o salto, e di uno studio di fattibilità finanzato dall'Agenzia Spaziale Europea. Cioè stiamo cercando di capire se può funzionare, non è il finanziamento per una missione vera e propria. E LIP è anche un acronimo, perché ovviamente lo è, l'astronomia e l'esplosione spaziale tutti amano gli acronimi, e sta per Legged Exploration of the Aristarchus Plateau, cioè esplorazione su gambe del plateau di Aristarco. Il plateau di Aristarco è una zona intorno al cratere di Aristarco sulla Luna che è incredibilmente affascinante, ma è pieno di rocce frastragliate e molto difficile da esplorare su ruote. Però geologicamente è una delle zone che ci interessano di più. Il cratere è di 45 km da parte a parte ed è circondato da una zona molto complessa e variegata di circa 200 km. Le foto dall'orbita sono pazzesche, ci sono un sacco di zone che vorremmo esplorare qui intorno al cratere. Risale a circa 450 milioni di anni fa e basta, quindi anche relativamente molto giovane rispetto a altre parti della Luna che abbiamo visto che hanno miliardi di anni. Ora, di cosa si tratta per quanto riguarda il progetto robotico in sé? Su gambe dovrebbe avervi già fatto pensare a vecchi progetti robotici come quello di Boston Dynamics, come il cane che era stato battezzato Spot. E una cosa simile, solo che viene da un'altra radice in questo caso, da uno spin-off chiamato Anybotics, e in particolare una piattaforma chiamata Animal, A-N-Y maiuscolo, in collaborazione con il ZTH di Zurigo, cioè il Politecnico di Zurigo. Ora, questo robottino su gambe è stato migliorato, addestratto e preparato per missioni sulla Luna, quindi anche se così a vederlo sembra simile agli altri che abbiamo già visto, in realtà è molto diverso nella sostanza. Quindi sì, il principio è quello, ha una forma simile perché quella forma funziona tanto, è un po' come tutti i rover si somigliano, anche tutte le macchine si somigliano, perché quattro ruote funziona bene, o sei nel caso dei rover maziani. Quindi, in questo caso sì, sono simili agli altri, ma renderlo in grado di funzionare in autonomia da solo sulla Luna o su Marte è un altro paio di maniche. Il progetto al momento è capitanato da un team con Patrick Bambach, che è uno di quelli che ha lavorato a più progetti di robotica anche alla ESA in passato, che è del Max Planck Solar System Research Institute in Germania. Quindi è un progetto per adesso tra la Germania e la Svizzera come asse tra università. Però una volta che viene approvato dall'Agenzia Spaziale Europea, probabilmente verrà allargato a tutti gli altri paesi che vogliono collaborare. Una delle cose belle che hanno cercato di capire è come questo rover può muoversi sulla Luna in gravità lunare, perché è la cosa che finora non abbiamo mai provato, giusto? La cosa più interessante di questo sistema di locomozione rispetto alle ruote è che può arrivare in zone che non abbiamo visto, ma prima dobbiamo assicurarci che può camminare, perché che succede se lo mandi in un sesso della gravità, tipo si capovolgi continuamente e si rompe, giusto? E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo questo robottino in realtà virtuale, davvero davvero. Non ha bisogno del visore, però quindi abbiamo simulato uno spazio virtuale in cui lui può fare prove, riprova, 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 dei modi di camminare. Quindi gli simuliamo terreno lunare, gravità lunare, vai! E grazie al sistema di machine learning ha iniziato a imparare da solo. Quindi lui da solo, provando e riprovando e riprovando, ogni volta imparando quello che funziona e quello che no, ha trovato i modi migliori per camminare sulla Luna. E la cosa adorabile è che la conclusione a cui è arrivato sono i saltelli due a due, a coniglietto come nel caso degli umani perché hanno due gambe, che avevano trovato anche gli astronauti delle missioni Apollo. Se guardate le riprese delle missioni Apollo, dopo un po' gli astronauti li vedete che saltellavano due a due perché era il modo più comico. Era anche il modo più comico, ma era il modo più comodo per camminare in un sesto della gravità lunare e fare grandi velocità, velocemente. Quindi, per quello dicevo, in realtà è vero che a guardarli questi somigliano più a cani come robot, ma nella mia testa, salterando così, 4x4, sono dei caprioli. Quindi caprioli sulla Luna, robotici però. In realtà virtuale lo stiamo addestrando a fare tutto questo al meglio. Ora, se questo progetto fa passa nella fase successiva, potrebbe diventare realtà e potrebbe arrivare sulla Luna già tra pochi anni. Come facciamo da farlo arrivare sulla Luna? Beh, per fortuna l'Agenzia Spaziale Europea sta lavorando a un nuovo lander molto grande per fare da delivery di cargo sulla superficie lunare. Si chiama EL3, European Logistics Large Logistics Lander, che è un lander grosso per portare cargo, come quando riforniamo la stazione spaziale, ma sulla Luna direttamente, per quando ci sarà una base lunare. E questo nuovo lander grosso della ESA dovrebbe debutare alla fine del... cioè nella seconda metà degli anni 20, quindi tra il 2025 e il 2030. E questo sistema, l'IP, se funziona, se siamo pronti, potrebbe essere parte di quella missione. Quindi, visto che comunque nella prima missione non ha cargo da portare, perché non c'è nessuno ancora sulla Luna, potrebbe riempire tutta la missione solo di vari tipi di robot, esperimenti di vario tipo, e questo potrebbe essere uno dei test. Noi potremmo essere il primo paese al mondo ad avere avuto un robot su gambe che cammina sulla superficie di un altro mondo. Che, cioè, immaginatevi però, visto che nominavo prima Boston Dynamics, immaginatevi qualcosa come Atlas, il robot Atlas, sulla Luna. Non so se sarei meravigliato o forse un po' inquietato, perché sarebbe strano vedere un robot senza tuta spaziale, perché non so se ne avrebbe bisogno. Ovviamente, cioè, non gli serve se i materiali sono resistenti. Un robot senza tuta spaziale in giro per la Luna. Però, per arrivare a quello, prima piccoli passi. E per la precisione, balzi. E per la precisione, a 4x4 come i caprioli. Quindi vediamo dove va questa missione. Non è detto che debba andare subito bene, magari si rompe, ma, ehi, come il JPL ha osato fare qualcosa di straordinario nel caso della NASA e portare a sue spese un elicottero su Marte, così, secondo me, in Europa possiamo usare anche noi cose incredibili. Visto che stiamo tornando in grande nel futuro sulla Luna, secondo me, questo potrebbe essere uno dei modi in cui l'Europa, una volta tanto, invece di inseguire, potrebbe diventare leader in qualcosa nell'esplorazione spaziale. Sarebbe fantastico. E, niente, incrociare le dita mi sembra un progetto molto bello. Vedremo come... come... cosa succederà per il futuro. Questo, tra l'altro, è possibile grazie anche a tutta l'esperienza commerciale fatta nei ultimi dieci anni. Quindi, il motivo per cui ora riusciamo a valutare realmente di mandare un robot così sulla Luna è perché non abbiamo dovuto iniziare da zero. Giusto? Non è che loro si sono messi lì e hanno progettato il robot da niente. Avrebbe avuto un costo molto più grande. No, questi robot sono già in commercio. Esistono già. Li puoi comprare. Se andate sul sito da Boston Dynamics sono in vendita. Quindi, il fatto che siano così diffusi ha fatto sì che il progresso a riguardo sia stato molto più rapido. E quindi sappiamo un sacco di cose di come si rompono, dove si rompono, come ripararli, eccetera. Tutta quell'esperienza è stata la base necessaria per fare davvero questo piccolo, grande leap. Salto? Balzo? Eh? Ok, la finisco con le battute e ci vediamo nel futuro. Grazie per aver visto anche questo video. Grazie ancora per tutto il supporto. Se volete aiutare questo canale a crescere sotto trovate in descrizione un link a Patreon per poter aiutarmi a fare più video così. Io ovviamente cerco sempre di fare video in base a quello che secondo me è interessante anche se non credo che siano tipo la maggior parte dei video che faccio quelle le cose che finiscono in tendenza. Giusto? Però conto molto su di voi. Quindi conto su di noi come comunità che riusciremo a creare un progetto per cui non devo inseguire algoritmi per cercare di stare dietro alle mode su YouTube ma faccio video che penso che siano più interessanti e che amiamo. Per cui posso farli però grazie al vostro sostegno. Quindi dalle magliette che potete comprare usando il codice ADRANEL4U per sconti e offerte il sostegno su Patreon semplicemente anche una condivisione dei video aiuta tutto tantissimo. Grazie ancora. Un abbraccio. Eccoci arrivati nelle handcard e a proposito di locomozione strana sulla luna questo è solo l'inizio di quello che possiamo fare perché anche sulla Terra abbiamo grazie alla natura un sacco di esempi di modi diversi per muoversi. La natura ha avuto il problema di come arrivare da un posto A a un posto B dall'inizio. Ok? Quindi è letteralmente una delle cose in cui biologicamente ci siamo super specializzati in un milione di modi diversi. Quattro miliardi di anni quasi di storia di sperimentazione della vita hanno permesso alla vita di trovare un sacco di modi originali per muoversi in qualsiasi tipo di ambiente dalle caverne al fondo dell'oceano dall'atmosfera ai presidi laghi e vulcani abbiamo trovato modi per arrivare e fare di tutto a tutte le parti. Quindi secondo voi per esplorare le zone più difficili in giro da quale altro animale o insetto eccetera possiamo prendere spunto? Anche se gli insetti sono animali però vabbè da cos'altro in natura possiamo prendere spunto? Un tempo tempo fa avevo fatto un video che pochi hanno visto tra di voi e mi sento molto tradito perché a me piace un sacco sto scherzando era su un sistema per raccogliere energia su Marte grazie al vento con dei piccoli pannelli solari che erano come le foglie di piopo e abbiamo preso l'ispirazione dalle foglie di piopo che sono ancorate in modo particolare per muoversi continuamente nel vento in modo da non esporre troppo alla luce del sole ma continuare a esporre piano piano un po' sì un po' no un po' sì un po' no per regolarsi ed è bellissimo che dai piopi abbiamo trovato un modo per anche con basso vento perché per i piopi basta pochissimo a raccogliere energia potenzialmente su Marte quindi se dai piopi possiamo arrivare su Marte possiamo arrivare da qualsiasi altra cosa di esporzione spaziale quindi pensate fatemi sapere sotto da dove prendere se spunti e per il resto continuate ad essere meravigliosi ciao grazie a tutti